Durante il periodo di Pasqua, a Castel Sardo, la sera del Lumissanti, ossia il Lunedì Santo, la processione dei dieci misteri che rappresentano i simboli della Passione di Cristo, percorre lentissimamente le stradine del centro storico illuminate da torce. I misteri sono sorretti da figuranti che rappresentano i dodici apostoli. A ogni sosta si intonano antiche polifonie. Tra i canti eseguiti, l'Umiserere, l'Ustabbat e l'Ujesus, al priore della confraternita spette il compito di scegliere i cantori per i tre cori e figuranti che rappresentano gli apostoli. La notte del Giovedì Santo si tengono due processioni distinte, che recano le statue della Madonna addolorata e il crocifisso. I due cortei effettuano soste per eseguire il Miserere e lo Stabbat Mater e, secondo itinerari diversi, si ricongiungono poi in cattedrale. Il Venerdì Santo invece si svolge il rito dell'incravamentu, la deposizione della croce.